Sono il vicepresidente dell'Associazione Sportiva Gruppo Sporto e Cultura di Figline Incisa Valdarno, ma rappresento in questo momento anche come portavoce dell'Ause di Terranova Bracciolini, con la quale collaboriamo e organizziamo i corsi AFA di ginnastia adattata per gli anziani. In questo caso stiamo parlando sia per Terranova, ma soprattutto del centro sociale delle ville, dove è iniziata dal 2 ottobre una bella giornata di festa sostanzialmente e dove stiamo ottenendo anche dei buoni risultati perché in pochissimo tempo, in meno di due mesi, abbiamo già un corso di 18 persone che si mostrano molto entusiaste e sostanzialmente ci sono buone probabilità anche di raddoppiare le persone nei prossimi mesi. Siamo contenti perché l'Ause di Terranova e il circolo Arci che in questo momento gestisce il centro polevalente delle ville stanno veramente supportando in maniera attiva e importante questo progetto e quindi auspichiamo che sia un'evoluzione ulteriore.